e bella a tutti ragazzi dentro del mio canale sono sempre Smedda e oggi siamo in una nuova serie cioè non serie perché non come avevo detto sulla pagina facebook ma non ricorderò la storia perchè è già finita non mi va di rifarla prima perchè ci sono quasi un po' di fuselotte e quindi ricorderò credo missioni secondarie quindi ragazzi scusate per lì adesso fuoco in metto fuoco e aspettate se c'è qualcosa nella pacheca scusate ah patmobile 983 ah certo questo 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 mettiamo questo e abbiamo skin batman serie tipo classica che è una skin a questa skin batman la justice quindi merda e poi abbiamo questa qua che ho provato da tutta che ho provato da tutta questa skin che è schifo cioè è bella ma guardate le sopracciglia poi abbiamo questa skin che è proprio schifosa però però oggi proveremo tutte queste skin che dovrò uscire ed entrare qui ci sono quelle di Robin tutte di Nightwing io ho completato la storia come vi diciamo quindi grazie oggi proveremo tutte queste skin la prima da provare è questa qui la skin di batman della serie tipo classica ok ora una nostra storia ok e all' altro ok all'inizia o o o s'impreSe s'imprese ... ... ... ... no no non sono no 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 ma cos'è? cos'è? è anche niente giuro cioè l'ho già fatto questo è un'epoca questo è il nostro buono giochi è una cosa stranissima proprio per la sua soppucciante e siamo ritornati qua grazie e niente ah grazie tesoro allora cosa vuoi? forse c'è forse forse invece del tipo zombie esce gioco forse se vuoi altro caffè basta chiedere il prossimo gioco di pancetta qui ragazzi stoppa un ottimo il video qua vedo randini ragazzi qui vediamo qui vediamo in vediamo in vediamo qui no la stessa cosa è 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 ora è è è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti